Buongiorno, buongiorno, bentornati qua sulla nostra galassia. Prima di iniziare il video ovviamente vi volevo ricordare di iscrivervi al nostro canale anche se non stanno uscendo tanti video nell'ultimo periodo ma sono praticamente in ferie quindi sto facendo il minimo indispensabile per rimanere in vita e se invece siete G-Skate ricordatevi di attivare la campanella. Detto questo parliamo della live che in realtà è ancora in corso in questo momento la vedete sullo schermo non avevo voglia sinceramente di farvi il video perché la live è durata sono le 17.23 iniziata le 17 quindi vi lascio immaginare che cosa hanno detto. In realtà hanno introdotto i team da 3 e praticamente hanno parlato un po' dei miglioramenti che avremo con l'interfaccia utente con alcune cose soprattutto il console friendly per quanto riguarda Xbox e che possiamo beatamente ignorare. Quello che ci interessa a noi in realtà è il team da 3 e che so benissimo che interessa anche a voi e quindi ne volevo un attimo discutere visto che ne hanno già finito di parlare. In pratica hanno detto due cose il team da 3 innanzitutto porta i giocatori a 12 nella mappa quindi d'ora in avanti quando c'è la 1.0 i giocatori in mappa non saranno più 10 ma saranno 12. Questo vale sia per la classic mod che per la quick play una cosa molto semplice che hanno molto semplicemente aumentato i giocatori in mappa questo per dare spazio ai team da 3. Team da 3 che si potranno fare solo ed esclusivamente tramite invito quindi tramite amici voi volete farlo in custom e quindi andare a cercare qualcuno a caso potrete giocare o in solo o in 2. In 3 bisogna per forza avere un team questo perché l'hanno detto anche loro il team da 3 deve essere qualcosa di un po' più friendly da giocare quindi un po' più facile e soprattutto da giocare con gli amici perché ha delle difficoltà e bisogna coordinarsi molto meglio proprio per le difficoltà che vanno a introdursi con il team da 3. Innanzitutto hanno fatto vedere vediamo se lo troviamo subito qua sullo schermo dovrei averlo fatto eccolo qua il team da 3 in pratica avrà dei reward diversi per i token in pratica se voi giocate in 3 non avrete bonus non ci saranno bonus o token per le uccisioni proprio perché siete in 3 in team e non più in 2 e di conseguenza avete una maggiore potenza di fuoco ma va a introdursi tante altre cose che non si erano pensati. Innanzitutto si potrà essendoci 12 giocatori ci saranno i team in solo i team da 2 e i team da 3 chiaramente i team da 3 sono avvantaggiati sugli altri per la potenza di fuoco e per il fatto che se muore una persona beh ne rimangono ancora 2 ed è molto più facile arrestare il proprio compagno e soprattutto anche fare i boss in 3 ci si mette veramente un attimo. Detto questo tutto il team da 3 si baserà comunque e sempre sulle regole da 2 quindi tutto quello che noi abbiamo avuto fino ad ora in gioco quindi quando si prendono che ne so io i proiettili da terra quando si prende la taglia tutti i bonus che si hanno con il team da 2 rimarranno tali e non ci saranno bonus per il team da 3. Questo vuol dire che se voi andate a fare una taglia solo in 2 la recupereranno e non 3 se voi andate a un carretto delle munizioni e 2 devono ricaricare o meglio tutti e 3 dovete ricaricare beh probabilmente dovrete dividervi le cose in 3 perché soltanto 2 in realtà potranno essere sfruttate quindi tutto quello che noi abbiamo attualmente in gioco rimarrà così com'è. L'unica cosa che cambia è che ci sarà nel team una persona in più quindi tutto quello che va a rendere già difficoltoso ante perché magari bisogna reperire delle munizioni perché magari bisogna andare a fare la taglia perché magari bisogna scontrarsi. Beh in questo caso tutta la dinamica del gioco va a cambiarsi sia per quanto riguarda chi è in team da 3 sia per chi invece magari è in solo o in team da 2. Ovviamente chi è in solo avrà una difficoltà tremendamente alta che chiaramente invece se riuscirà a uccidere le persone o a fare quelle cose che normalmente si fanno attualmente avrà ovviamente molti molti più bonus. Mentre chi è in 2 o chi è in 3 ne avrà molti meno questo è un incentivo chiaramente per continuare a giocare in solo o in 2 mentre per tutti coloro che per esempio io normalmente gioco con 2 o 3 persone e c'è sempre qualcuno che rimane fuori da solo. Beh probabilmente chi ha tanti amici o chi comunque ha più persone magari nel proprio TS nel proprio Discord con cui giocare potrà finalmente sbizzarrirsi con un team da 3. In realtà questo è stato detto questa è la cosa principale sinceramente la trovo una bella iniziativa perché comunque si stanno introducendo le console e di conseguenza normalmente i giocatori di console sono molto più propensi ad avere amici e comunque non andare in custom che va benissimo va benissimo anche ovviamente per pc quello che un pochino mi lascia perplesso è il fatto che loro abbiano voluto mantenere questa versione ok che noi abbiamo del gioco e quindi versione studiata per due giocatori massimo e hanno voluto introdurre il team da 3 alzando tra le altre il numero di giocatori a 12 sia nella quick play che nel classic mode. Sono un po' perplesso per chi invece gioca da solo ed è abituato a giocare da solo perché se fino ad ora se l'è cavata perché poteva magari cecchinare una persona e poi avere uno scontro one to one con un'altra in questo caso avere un team da tre soprattutto dopo aver preso una taglia vuol dire avere un jolly enorme enorme per poter aggirare gli avversari per poter sfruttare questo numero molto elevato di proiettili in più che si ha nel team da tre per poter pushare o per comunque potersi difendere. Da prendere in considerazione sia se si gioca in solo che in due che in tre bisogna prendere in considerazione tanti fattori che andranno ad aggiungersi e che attualmente ovviamente non hanno detto ma che sicuramente risulteranno molto più difficoltosi anche per esempio soltanto le armi avere un team da tre che campera in una zona molto più ampia perché ovviamente in tre si possono dividere molto più apertamente sul campo sarà un bel problema quindi vediamo Crytek se questa cosa funzionerà ovviamente andrà sul test server anche questo spero al più presto possibile perché ragazzi manca un mese esatto per l'uscita del gioco e vediamo un po' come veramente si svolgerà e come soprattutto si attesterà il team da tre all'interno proprio di Unshowdown quindi vediamo anche in quanti poi giocheranno realmente nel team da tre. Vi ricordo che una partita di team da tre vuol dire che ci sono al massimo quattro squadre e che ovviamente la mappa in questo caso si ingrandisce soprattutto la nuova perché la nuova già è enorme se pensiamo che quattro team possono partire ognuno dal proprio angolo e buon divertimento potrebbe essere anche un pochino più noioso ma comunque vedremo come andrà nel test server vedremo come andrà poi in tutto il Q&A ovviamente qua parlano a cazzo di cane perché tanto non si capisce mai niente oggi hanno invitato il ciccione per spiegare la 1.2 e la Wii 2.0 e non hanno veramente letto un cazzo però vedremo vedremo fatemi sapere che cosa ne pensate voi ditemi veramente quello che avete nella vostra testa dopo aver saputo questa notizia e dopo aver anche visto magari il trailer e noi ci rivediamo magari alla prossima live o direttamente nel test server speriamo il dio nel test server che esca e che si possa provare in anteprima bene con questo è tutto GG a tutti quanti ciao grazie a tutti